Adesso c'è la colomba, l'uovo, la Pasqua da trascorrere serena con la Lega Pro che non è più una sorpresa. Poi, soltanto da martedì prossimo, si inizierà a pensare al futuro. Con largo anticipo, ma senza fretta, Marinelli smania di mettersi subito al lavoro per l'Ancona che verrà. Brama di strappare una stretta di mano a Sandro Marcaccio e Giovanni Cornacchini. Non mi devono tirare uno scherzaccio perché io li voglio assolutamente al mio fianco in questa prima avventura nei professionisti dove, sinceramente, già tanti mesi che lo dico soprattutto a Sandro, io umilmente non ho questa esperienza anche se ho l'orgoglio da Anconettano, da Presidente, di continuare a far bene, di dimostrare che siamo bravi però ho bisogno dell'aiuto di professionisti come Sandro Marcaccio e il mister Cornacchini. Il destino del mister è legato a doppio filo alla decisione del DS. Quest'ultimo è stato il parafulmine per tutta la stagione e ha consentito a Cornacchini di poter guidare la corazzata bianco-rossa alla conquista della promozione. Credo che la società si sia espressa, quindi dobbiamo parlare di tutto, anche di questo, ma io non chiedo mai garanzie. Non credo di essere nella condizione di chiederle, non mi permetterei mai, non l'ho mai chiesto. Quindi vediamo quali sono i programmi, i progetti e gli strumenti per raggiungerli e poi non credo che ci saranno grossi problemi. La volontà di Marcaccio è quella di rimanere, ma i temi che con Marinelli dovranno essere chiariti sono pochi ma fondamentali. I programmi, che tipo di campionato dunque la società vorrà fare l'anno prossimo, il budget a disposizione, in base all'obiettivo, e soprattutto l'organizzazione dirigenziale. Marcaccio vorrebbe più professionalità e ruoli chiave, come quello del segretario, e un organigramma più snello di quello attuale. Se il patron bianco-rosso capirà di dover fare a meno di qualcuno che ha dato, fino ad oggi, il suo contributo per accontentare Marcaccio, allora sì che dopo Pasqua ci si potrebbe mettere già al lavoro, pensando alla Lega Pro.